Finco Finco è una realtà importante nata non molto tempo fa ma che rappresenta un punto importante della filiera allora Pietro ti chiedo intanto se ci dici chi è Finco dice un po' la platea, la rappresentanza e così via e prima dell'illustrazione del documento, dei punti che ci farà il presidente Spaziani Testa vorrei che tu esplicitassi al meglio qual è la funzione della filiera perché voi siete proprio i rappresentanti della filiera o meglio da anni si dice che dal 2011 il governo Monti ha iniziato questa campagna per cui l'investimento immobiliare è un investimento improduttivo classificando investimento improduttivo appunto l'acquisto immobiliare il cittadino che compra un immobile lo tiene immobile e invece dietro c'è un mondo e c'è tutta questa cosa quindi a te il compito di rispondere a queste due domande così giusto per grazie mille buonasera a tutti facile facile e la facciamo anche ancora più facile intanto grazie di averci coinvolto sono molto molto felice che stiamo ragionando di piattaforme comuni perché alla fine secondo me al di là di quello che possiamo dirci il tema vero è questo e anche il tema della circolarità, dell'efficacia delle cose che possiamo fare per riprendere la tua domanda dal fondo Finco è la federazione che raggruppa tutti i sistemi industriali che pensano, progettano e realizzano componenti tecnologici per l'edilizia il che vuol dire tutto quel sistema che va dall'involucro alla produzione di componenti semplici alla gestione dei metalli per esempio io dirigo Unicmi che è l'associazione che rappresenta tutti i costruttori di facciate continue di serramenti, di porte, di vetri e di vetrazioni che sono tutti quei componenti e quel sistema industriale che ha una funzione sia laddove ci sia una grande propensione del mercato al rinnovo sia laddove ci sia una propensione del mercato al nuovo per arrivare però un po' al punto perché siamo qua adesso si inizia a parlare delle cose che vanno leggermente meglio però, lo ricordavi prima non sono andate un gran che bene per noi sono state una tragedia shakespeariana cioè noi veniamo da quattro anni da cinque anni in cui io tutte le mattine mi alzo e dico benedetto signore moninfluenza non mi poteva venire che sto a casa noi abbiamo perso avevamo un settore da 5 miliardi di euro abbiamo perso il 40% del fatturato in sei anni stiamo attenti perché non è così vero che sono morte le aziende cattive perché questo è anche un dato su cui ci dobbiamo interrogare tutti questa crisi ha impattato sicuramente sui volumi tantissimo sul benessere non per forza sulla qualità degli attori quindi noi dobbiamo fare uno sforzo insieme per iniziare a capire che per esempio una delle cose per farlo tornare a pagare al settore è aiutare le istituzioni a scegliere la qualità da questo punto di vista per noi esserci è fondamentale perché al di là dei dieci punti crediamo si possa insieme ingegnerizzarli per portarli al senatore e a chi con lui e per lui governerà in modo un po' puntuale perché chiudo dicendo questa legislatura si è chiusa con uno scempio fatto sull'involucro edilizio straordinario cioè le detrazioni fiscali che hanno funzionato per anni che hanno tenuto sul settore sono state imbastardite dentro la ristrutturazione semplice facendo una cosa che per il consumatore sarà tragica cioè ci sarà un mischione orrendo sono state portate al 50% noi in questo manifesto diciamo bisogna rivalutare energeticamente da un punto di vista sismico gli edifici, noi rappresentiamo anche chi produce i risultati sismici c'è un tema che qua dovrebbe essere cogente le ristrutturazioni energetiche le possono fare i privati cittadini e vi assicuro che le nostre industrie hanno spremuto la signora Maria che ormai se vede un seramentista scappa ma non le possono fare i grandi proprietari immobiliari sulle loro proprietà e che senso ha? che senso ha? la signora Maria forse potremmo anche dargli un seramento ma che senso ha che chi avrebbe da guadagnarci da farci guadagnare chi ci vivrà dentro da risparmiare davvero in termini concreti e in più avrebbero a investire? non può allora questo manifesto è lo spunto secondo noi per moltissime battaglie molto verticali sulle quali speriamo di diventare anche dei gran rompiballe perché è il momento di iniziare a farlo grazie mille grazie Pietro come possiamo declinare insieme secondo te questo documento cioè tutte le altre imprese che tu conosci e così via potranno aderire potremmo veramente creare una piattaforma e trovare dei punti importanti insieme a tutta la comunità dell'immobiliare? ma io voglio dire adesso naturalmente si fa sempre tempo a essere stupiti dalla stupidità umana quindi potrebbe anche essere che qualcuno che lavora e vive di edilizia non sia d'accordo con uno di questi punti perché ci sono persone che bevono la mattina ci sono casi umani dappertutto quindi non vorrei però francamente risentendoli elencare a me mi viene in mente soltanto Fellini e mi viene da dire parezzugner cioè è anche troppa roba va bene anche la metà se vogliamo proprio e credo che il tema da un punto di vista delle relazioni industriali perché poi uno tu hai detto prima giustamente rischiamo di essere qua sempre a dirci le stesse cose una delle stesse cose che noi ci diciamo sempre è dobbiamo trovare un'unità dobbiamo trovare una piattaforma comune dobbiamo stare insieme e probabilmente l'errore che non dobbiamo fare anche su queste proposte sulle cose che faremo dopo è quello di presupporre che l'unità nasca da una eguaglianza di fondo noi rappresentiamo sistemi che hanno spesso interessi come dire che navigano bene insieme se si trova insieme una mediazione se si è capaci a individuare dentro queste cose le cose che vanno bene a tutti queste sono ovviamente straordinarie dico una sola cosa in tutto questo partendo dall'istituzione del ministero dello sviluppo immobiliare quello che vorrei io come leggerei io quel punto numero 10 è avere qualcuno da cui suonare il campanello dell'attenzione quando nei mille decreti applicativi che noi dobbiamo studiare e lavorare tutti gli anni compaiono le castronerie immense perché noi adesso sul 65% l'85% per la ristrutturazione da un punto di vista sismico stiamo aspettando dei decreti che mi viene da piangere solo all'idea sono sicuro che spunterà fuori un buon tempone che dirà che bisognerà mettere dei limiti per singola tipologia di intervento che detto sulla sismica è come sapere prima di andare dal dentista che ti toglieranno tutti i denti a prescindere per cui cerchiamo soprattutto di essere luogo di monitoraggio e di applicazione di quelle cose lì nei mille decreti che rischiano di condizionarle grazie a voi grazie a voi grazie a voi